Nella notte si è tenuta la terza disinfestazione adulticida da Zanzara Tigre a Pesaro, la più ampia visto che ha riguardato l'intera zona mare di Pesaro allargandosi anche la porzione residenziale di Levante compresa fra Viale Trieste e la Statale. Terza disinfestazione preventiva ha voluto chiarire il comune in quanto i casi di dengue a Pesaro sono fermi a due a differenza degli oltre 130 Fano dove ora sono state programmate disinfestazioni sistematiche ogni 15 giorni e ogni 7 vicino a scuole ed RSA. A Pesaro ad oggi non ci sono motivi per procedere con altri interventi. Un intervento che non è stato neppure previsto ne è stato neppure richiesto dall'AST ma l'abbiamo fatto in maniera preventiva e cautelativa. Farlo in tutta la città ci è stato detto che in questa fase non aveva senso, non c'erano motivi per doverlo fare in tutta la città, ci hanno detto di farlo in un raggio di circa 300 metri rispetto ai punti che sono stati individuati, cioè dove abitavano le persone che sono state trovate infette, entrambe le persone erano in zona mare, noi però in via cautelativa abbiamo comunque voluto fare l'intervento in tutta la zona mare compresa tra la Statale Adriatica e verso il mare, con una zona ovviamente più ampia verso la zona del porto perché uno dei casi era nella zona del porto. Quindi i cittadini al momento devono stare sicuramente tranquilli, non lo dico io ma lo dice l'azienda sanitaria e nel momento in cui ci dovessero essere ulteriori segnalazioni da parte dell'azienda sanitaria saremo immediatamente pronti ad intervenire.